ciao rao benvenuto ai mondiali i fcs ti stiamo aspettando perché vogliamo sapere un po come sta andando e poi ci devi parlare anche del tuo cane andando abbastanza bene ho preso una medaglia d'oro nello snooker ho fatto un buon piazzamento dell'agility ero settimo poi purtroppo ieri ho fatto un eliminato in jumping però mi sto ancora giocando il biathlon che sono nono e quindi diciamo che ci sono altre medaglie che ci aspettano forse lei è coffee da sei anni e questo è il suo terzo mondiale i fcs l'anno scorso in inghilterra abbiamo preso l'argento a squadre quindi stiamo avendo un miglioramento piano piano e ho cominciato a fare mondiale fcs nel 2016 con un altro cane con cui ne ho fatti quattro e al momento comunque il mio mondiale preferito perché si gira tutti i giorni si fanno un sacco di giri la gente è carismatica io ho fatto anche il wow il mondiale fc quindi lo dico perché gli ho fatti tutti ed è comunque quello che preferisco e spero di riuscire a qualificarmi anche l'anno prossimo magari anche con un cane nuovo chiamo in lavorazione va bene va bene ma come il carattere del tuo cane o la coffee ha sempre voglia di lavorare praticamente non non ti lascia mai un secondo neanche quando vai al bagno e poi infatti questa cosa è sorprendente perché l'anno scorso aveva appena fatto sette cuccioli e tre mesi dopo è venuta a fare il mondiale ha vinto cioè ha una voglia di fare che è infinita infatti sta pensando all'agility come vedi basta che sente che c'è così quindi evidentemente per lei è un vero divertimento sì sì lei non non vede anche quando ha finito continua a guardare il campo bene guarda la concorrenza va bene grazie 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 a te ciao ciao